Salve amici e bentornati sul mio canale Oggi in questo video parlerò del nuovo disegno di legge che prevede una riforma al codice della strada Toccherò 7 punti, i 7 punti che verranno sicuramente riformati Ma prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate del video con un commento Sigla e cominciamo col video Forse la più grande novità del disegno di legge appena parato dal governo e quello appunto che attiene sia che siano droghe leggere o droghe pesanti comunque agli stupefacenti in generale Fino a ieri non bastava essere positivi al test rapido della droga per incorrere nelle sanzioni ma era necessario un altro tipo di controllo e cioè quello che dava poi la prova dell'effettiva alterazione psicofisica quindi chi risultava positivo perché ad esempio si era fatto qualche canna o una canna comunque dei giorni prima ma era in perfette condizioni psicomotorie non rischiava nulla La riforma invece va a stravolgere totalmente questo guanto di velluto e infatti con la nuova riforma al codice della strada saranno condannati tutti coloro che risulteranno positivi al test rapido un po' come l'alcol test per misurare lo stato di ubriachezza del conducente di un veicolo per loro scatterà la sospensione e la successiva revoca della patente con il divieto di non poterla conseguire per tre anni in pratica anche chi si mette alla guida a distanza di giorni e risulterà poi positivo incapperà in questa nuova riforma La nuova riforma del codice della strada che pone dei limiti ai neopatentati di usare autopotenti avrà valore retroattivo? Cioè i neopatentati che hanno già conseguito la patente dovranno anche loro conformarsi alla futura riforma? Se lo stanno chiedendo in molti ma vediamo meglio cosa succederà Oggi i titolari della categoria di patente B trascorso un anno possono portare qualsiasi tipo di veicolo ovviamente rientrante nella categoria B senza il limite dei 55 kW che vengono innalzati a 65 kW per i veicoli elettrici La riforma però estende ai primi tre anni il divieto di guidare delle auto, dei veicoli che abbiano appunto dei kW superiori ai 55 e 65 kW ma solo per quelle conseguite dalla data in vigore della riforma Pertanto chi si sta prendendo la patente io vi consiglierei di affrettarvi anche se comunque passerà del tempo perché prima deve essere approvata dalle camere comunque un iter molto lungo quindi tutti quelli che hanno già preso la patente non ricadono all'interno della riforma quindi la riforma non avrà effetto retroattivo state tranquilli Per chi verrà colto a guidare con un tasso alcolemico superiore agli 0,80 g per litro ma vi ricordo che il limite massimo è di 0,50 g per litro oltre al procedimento penale perché come vi ho anticipato nel video precedente chi ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 diventa reato quindi subirà un processo penale ma scatterà il divieto di guidare anche se si è bevuti mezzo bicchierino di qualsiasi bevanda alcolica in pratica bisognerà avere il tasso alcolemico a 0 per potersi mettere alla guida è attualmente invece previsto solamente per i neopatentati in più queste persone dovranno installare a proprie spese all'interno della propria auto per almeno due anni l'alcol lock un dispositivo che misura il tasso alcolemico all'interno del nostro corpo e se questo sarà superiore a 0 non vi metterà in moto l'auto un neopatentato che verrà corto a guidare in stato di abbrezzo comunque sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non potrà prendere più la patente fino ai 24 anni per chi invece è recitivo quindi per chi sarà sorpreso più volte sotto l'effetto di alcol o sotto l'effetto di stupefacenti scatta l'ergastolo della patente ossia la revoca di quest'ultima per 30 anni oggi chi viene sorpreso a guidare con il cellulare in mano scatta una multa a partire da 165 euro fino a 650 euro è la detrazione di 5 punti sulla patente ma la sospensione della patente scatta solo in caso di recitiva ossia dopo la seconda violazione nell'arco di 2 anni da adesso in poi invece ci sarà la sospensione della patente immediatamente ed è quello che prevede la nuova riforma del codice della strada e per quanto tempo? 7 giorni di sospensione per chi ha più di 20 punti 15 giorni di sospensione invece per chi è sotto quota 10 punti la nuova riforma del codice della strada ha previsto inoltre una tutela ancora più importante nei confronti dei ciclisti infatti questi non possono essere superati dai veicoli se non c'è uno spazio fra il veicolo e il ciclista di almeno 1,50 m ma nella pratica sostanzialmente non verrà assolutamente multato il conducente che passa a meno di 1,5 m di distanza anche perché il vigile ad esempio non ha gli strumenti adatti per misurare la distanza quindi scatterà questa norma nel caso di incidente e lì poi sarà un perito, un tecnico abilitato a stabilire le distanze fine della pacchia finalmente per i monopattini la nuova legge infatti prevederà che questi benedetti monopattini non potranno circolare contro mano come oggi ad esempio previsto per le biciclette inoltre è stato previsto che verranno e dovranno essere dotati di targa e di un tagliandino per l'assicurazione che non è assolutamente possibile trasportare da un monopattino ad un altro ma soprattutto è bene che vi dotiate di un casco perché questo è obbligatorio anche per i maggiorelli ed è infine devastante ciò che è stato previsto nella riforma di legge per quel che riguarda l'eccesso di velocità e il passaggio dei veicoli con il rosso oggi c'è una tolleranza per quel che riguarda il rilevamento nel tutor o comunque nell'autovelox e quindi le multe variano a seconda della trasgressione dai 10 km orari sino ai 40 mentre con la nuova riforma è previsto che sicuramente verrà ridotto questo margine infatti scatterà una sanzione anche col superamento minimo della velocità imposta e comporterà quindi la sospensione della patente per 7 giorni per chi ha più o 20 punti sulla patente e 15 giorni per chi ha meno di 10 punti quelle che vi ho appena fatto vedere in questo video non sono ancora norme di legge ma dovranno essere approvate appunto come vi dicevo dal Parlamento e potranno subire anche delle modifiche ma non è neanche detto che tale riforma entri in vigore anche se il governo comunque dalla sua parte la maggioranza c'è una lieve spaccatura su tanti punti di questa riforma quindi staremo a vedere e per sapere se quando e come saranno varate tali riforme vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e a lasciare un like ciao